Musica Questa mattina, giovedì 5 gennaio, intorno alle 5.20, alcuni malviventi hanno cercato di far saltare la cassa continua situata al supermercato di via Madre Teresa di Calcutta a Caselle Torinese. La deflagrazione non è avvenuta completamente, quindi pare che i malviventi siano fuggiti a mani vuote. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Veneria Reale, i vigili del fuoco di Trinostura e i carabinieri artificieri, poiché era rimasto dal materiale in esploso. Indagini in corso. Indagini in corso.